buongiorno amici di rete veneta la domanda è prorompente campomarzio o campomarzo partiamo da campomarzo perché lì c'è il retrone c'era voglia seriora probabilmente era una palude e quindi marzo con l'accezione di marso altra parte della popolazione invece un pochino saggiamente dice no ampomarzio perché marzialità perché lì sono state trovate le statue di marte perché è l'ingresso la città e allora la domanda sorge spontanea se il dibattito culturale così acceso cosa ne pensano i cittadini per capire cosa i cittadini ne pensano in collaborazione con voi di rete veneta e abbiamo costruito un questionario noi liberi pensatori che si trova sulla nostra pagina facebook e sul gruppo facebook amici di rete veneta qui potrete votare o una quindi campomarzio o la seconda opzione ovvero campomarzo e ricordo che marzio marzialità marzo marcio quindi a voi identificare quell'area e ricordatevi che attraverso questi questionari speriamo di fare la storia della nostra amata città alla prossima e grazie